Ups a tutti, miei cari Upsini, Upsini, come state, come state? Spero bene, dai. Sì, oggi, 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 oggi cosa farò? Un video tag. E tanto che non ne faccio uno. E a questo qua ho voluto partecipare. Il tag che farò è il tag dell'infanzia di Giannard ASMR, che ha fatto quattro anni del canale, se non sbaglio, quindi tanti auguri. E ho letto le domande e ho pensato fossero carine anche per conoscerci meglio. Perciò, subito, subito, indosso un paio di cuffiette o di auricolari e cerchi di chiudere gli occhi. Sarà un video parlato con qualche suono un po' di dopo. Spero di essere tutto a posto. Ho tagliato anche i capelli ieri, quindi. Allora, le domande sono dodici, ma in realtà sono undici. Allora, la prima dice La tua favola preferita? Perché? Allora, non so se ho una favola preferita, però ieri ho provato a ragionare un po' su questa domanda. E penso che sceglierei Generentola perché trovo che la storia dietro Generentola sia veramente, veramente bella. Per di più ha una morale, secondo me, molto valida. Va appunto a rivalutare il concetto di bellezza interiore, bellezza esteriore, di famiglia, di amore, capito? Secondo me parla di veramente, 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 veramente tante cose fantastiche. Poi, parlando di favole, una piccola cosa che aggiungo, su Netflix recentemente è uscita l'Accademia del Bene e del Male. Ed è un film basato sulle favole, possiamo dire, che io ho adorato all'infinito. Ho già visto quattro volte e lo vedrò ancora. Allora, vi piaceva impersonare i personaggi delle favole? Se sì, quali? Seconda domanda. Allora, qui non penso, mi piaceva impersonare i personaggi delle favole. O almeno uno che mi ricordo, che forse impersonavo un pochino, era Robin Hood. Penso perché, vi giuro, non mi ricordo. E questo, più che altro, io vado ad impersonare le persone. Dico, piuttosto avrei voluto incontrare quella persona, oppure mi è piaciuto tanto quel personaggio, capito? Però non voglio essere te, capito? Fatto, detto così, no. Spero di essere a posto con le luci, perché sto giocando un po' con le mani. Poi, terza domanda. Qual era un punto di ritrovo nella tua città o paese? Dove andare per incontrare i tuoi amici? Allora, penso che fosse un parco che c'è da questo lato della città in cui vivo. Perché la città in cui vivo è tipo divisa in due lati. Un parco vicino alle scuole elementari e medie. Ma neanche si frequentava molto. Cioè, per me è molto più semplice andare a casa di un mio amico se lo voglio incontrare, capito? Quindi, poi, trigger preferiti. Quali ti piacevano di più? Al giorno d'oggi, di trigger preferiti. Devo un attimo pensarli. Ma ti posso subito dire che il mio trigger preferito, che è, è ed era, è sicuramente il phon. A me il phon rilassa tantissimo, però non i suoni bianchi in generale, perché, per esempio, suoni come, cos'è anche l'aspirapolvere, non mi piace. Ha anche certi phon per capelli, non mi piacciono. Però sì, se volete. Solo che visto che registrando alle tre di notte non posso accendere il phon. Però adesso voglio, per un minutino, due minuti massimo, farlo partire un attimo. e non la voglio provare. Quindi, 3, 2, 1, via. E, 2, via. E, 2, via. E, 2, via. E, 3, via. E, 3, via. Ok, poco poco capito, solo per farvi un attimo sentire, poi altri trigger che mi piacciono, mi piacciono i trigger che hanno una confezione di plastica che è un po' crunchy, il tapping per quanto banale lo trovo molto molto valido, i visual trigger sono molto rilassanti, mi piace un po' di tutto. Poi il tuo più grande sogno? Allora ti posso dire, quando ero un po' più piccolo ma anche adesso sarebbe un sogno lavorare nel mondo dello spettacolo, pare, non lo so, tipo attore, anche doppiatore, non per favore, perché trovo che i doppiatori siano veramente fantastici. Capito lavorare sui film, sulle serie tv, ma penso che non si realizzerà mai, resterà un sogno, il che non è per forza una cosa brutta. Allora, la materia che ti piaceva di meno, allora all'epoca inglese, cioè io fino alla terza media, odiamo inglese, invece adesso era la mia materia preferita. Adesso fisica, odio fisica. Cosa eviteresti di fare se potessi tornare nel tempo, perché? Allora, questa è stata l'unica domanda che ho fatto un po' più difficoltà, perché la mia risposta è che in realtà non penso che cambierei qualcosa, perché le scelte che ho fatto e che tra virgolette mi sono poi state imposte di fare, a parte diciamo, sono quelle che mi hanno portato ad essere come sono oggi. Perciò non penso che andrei indietro nel tempo e cambierei delle cose. Ti è sempre piaciuto il tuo nome? Se no, quale nome avresti voluto avere? Allora, a me piace il mio nome? Assolutamente. Mia madre mi ha detto le opzioni del mio nome quali erano, non mi ricordo che o mi avrebbe chiamato Matteo o mi avrebbe chiamato Dario. A me piace Matteo. Però, sì, c'è un nome che mi è sempre piaciuto e che infatti uso per ogni nickname, diciamo. Ovvero, Cameron. A me Cameron come nome è sempre piaciuto e potessi cambiare per farvi capire con Cameron lo farei. Lo so, un nome particolare, magari non a tutti può piacere. Però, sì. Ho qua il telefono, se non si fosse capito. Allora, mostra un oggetto legato alla tua infanzia e se è possibile facci del tapping. Allora, ho preso questo oggetto. È un oggetto un po' strano, però ha un messaggio dietro. Allora, ho preso questa scatola con dentro un bel po' di pennelli. L'ho fatto perché da piccolo, insieme a mia mamma, sì, e anche a mia sorella, non era troppo raro che prendessimo questi pennelli, prendessimo gli acquerelli colori a tempera e dipingessimo insieme. E ho pensato fosse stato carino prendere questi. Ora, io ho sento una, è una cosa... Ora, io ho pensato della genocidistro, che il mio è di encore per cui ti metto uno, allora c'è안 semplice, 掣го, un'abbia speciale ... preferisco non tirarli fuori perché ce ne sono tanti a momenti si chiude però sì, sarà da questo forse che andava un po' la mia passione per il disegno anche se in realtà non disegno mai però mi piace veramente tanto poi parla di un momento nostalgico del passato allora pure a questa domanda ho fatto un po' di difficoltà e ci ho dovuto pensare secondo me un momento molto nostalgico che ho è legato al Natale perché nell'infanzia il Natale lo vivi tutto in un altro modo diciamo il, non lo so il fare la letteina metterla nell'albero aspettare che Papa Natale la prendeva per poi arrivare a Natale con la sorpresa dei regali è qualcosa secondo me di nostalgico perché al giorno d'oggi so come funziona e so i regali che riceverò perché sono stesso io che dico alle persone prendimi questo, questo, questo questo, capito? per non arrivare ad avere regali che non posso utilizzare a pieno quindi diciamo un po' la magia si è persa però pensavo questo qui fosse un momento nostalgico da raccontare ultima domanda dice da piccolo preferivi la voce di quale genitore? spiega il perché allora questa l'ho trovata una domanda interessante devo dire forse preferivo la voce di mio padre ma perché precedentemente nella mia vita non avevo un buon rapporto con mia mamma non avevo un buon rapporto con mia mamma le dicavamo spesso e quindi la voce di mia mamma associava la figura di mia mamma e poi mia mamma quando parla ha sempre dei toni un po' alti però vabbè quindi devo dire penso che all'epoca preferivo quella di mio papà adesso mi indifferente e poi c'è il punto 12 che dice tag chi vuoi ma io che non sono bravo a tagcare dico se tu sei un creator smr e stai guardando questo video e vuoi ricreare questo tag fallo te l'ho detto io così almeno risolviamo tutto quanto e niente è il momento di fare cucù cucù adesso tocca a te aspetta voglio provare a prendere un pennello preso 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 tocca a te iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte della OPS community e diventare un OPS se sei un maschietto e una OPS se sei una femminoccia poi poi lascia un bel like qua sotto e un bel commento per farmi sapere se il video vi è piaciuto quali risposte avreste dato voi alle domande soprattutto ringrazio ancora Gianarte SMR per avermi taggato ti faccio i tanti auguri se starai guardando questo video e sarai arrivato fino a qui e nulla questo video finisce qui quindi io ti lascio qua il mio video precedente qua una mia playlist e qui il tasto per andare sul mio canale e vedere colunque video tu vorrai perciò buonanotte buonanotte e un bacio ci vediamo al prossimo video buonanotte 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 Grazie a tutti.